rispondiamo alle domande fatte quindi la prima domanda che quella poi risponderà la seconda domanda è acquistando un corso di formazione sfig mi vengono regalate delle pre quote delle quote in pre ipo devo dichiararle in fase di dichiarazione dei redditi o per il momento non devo fare niente finché inizia la fase ipo bene le quote essendo che sono di proprietà sono vostre ma non serve dichiararle perché è un certificato cartaceo ancora non serve dichiararle fin quando queste quote non producono dei redditi quindi non producono della rendita passiva dal momento che producono una rendita passiva voi pagherete il 26 per cento sulla rendita passiva della delle quote quindi fino a quel momento non serve dichiarare seconda domanda dice in che modo posso trasferire le quote da un profilo all'altro che tipo di documento dobbiamo presentare alla compagnia per fare questa operazione allora le quote sono quote nominali non si possono assolutamente trasferire da nessun profilo a un altro profilo quando l'azienda arriverà in fase 15 chiuderà la fase 15 aprirà se decide di aprire un borsino interno per lo scambio delle quote interno in quel momento le persone faranno presente che vogliono cedere le proprie quote e quindi se le cede l'azienda è l'azienda che li richiera e ci sarà lo scambio delle quote del certificato sarà cancellato un certificato e messo un altro certificato se sarà manduta a un'altra persona chiaramente sarà emesso sarà comunicata all'azienda che le quote vengono cedute da questa persona a questa persona e l'azienda emetterà un altro certificato ma a fine al momento in cui l'azienda non è finita la fase 15 non si possono scambiare nessun tipo di quote la fase dopo la fase ipo quando si apre il borsino interno ricordatevi che le quote si possono scambiare solo internamente a noi quindi internamente al nostro alla nostra azienda quindi persone che sono già possessore di quote non si possono vendere a persone esterne perché per fare questo ci vuole il consenso di skyway chiaro poi andiamo avanti un'altra domanda dice considerando che l'ipotetico investitore è titubante su fare o no l'investimento è il codice ISIN potrebbe essere una garanzia in più dovremmo saperne di più approfonditamente di questa cosa del codice quali sono i vantaggi del investitore questa l'abbiamo fatta a maxine vero tatiana tatiana ok senti sì dico questa non è grazie per la ragazza a maxine che diamo maxime voi s'nami da добрый вечer e legine добрый вечer buon giorno a tutti come diciamo поступati. Domenico ha già detto che dice il nostro collega. Perivate, che dice Domenico. No, però, in breve, che ho capito, a che si dice. Il rispettato a due domande. Adesso, traduco a Maxime su cosa e risposta. Su quali domande. Allora, il rispettato a domande, ** 6 7 8 8 8 9 12 11 12 11 12 Peredare le dolli a altri участникам? Cosa? Le dolli, che abbiamo? Sì, a scusere. Do 15 etapa, do закрытиi, non possiamo fare questo. Domenico, che non possiamo obmianciare le dolli. E che la compaglia come si chiama? La compaglia ha avuto un proiettel Quando è possibile, la quale è stata fatta? io credo che non sarà, è importante che è stato fatto un strategico risultato con le nostre compagnie, che questo momento è stato. Ma prima che la scelta di 15 età si succederà, questo risultato non sarà stato fatto. Bene, ora lo vedo. Per la prima e seconda domanda, sì, Maxime ha detto che hai spiegato benissimo per quanto riguarda di trasferire le quote a un altro profilo, come avevo detto domani, Nico non lo possiamo, sarà possibile solo dopo la quindicesima etapa, dopo la chiusura di tutte le tappe, ci possiamo scambiare tra di noi, poi, diciamo, azienda madre sistemerà tutto questo processo che sia tutto facile e senza problemi. Grazie a tutti, grazie a tutti. per la chiusura di un'altra domanda. Ok, grazie a tutti. E' vero che, ipoteticamente, il investimento del investimento in questo caso, questo cod leasing può essere garantiей... Cod I-SIN? Ah, garantiei. No, no. We do not know about this more or not. I would like to tell you that a lot of companies don't give their registrations their accion in the system I-SIN because they don't see in this kind of special I would like to tell you I would like to tell you on two types of companies that are who went to IPO on the FB and those who didn't go to IPO and those who didn't go to IPO have no requirement to register their I-SIN This is a process and it's if it's 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 so it's so it's 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 what's that what are what I I per investitore, ce ne sono. Allora Maxime ha detto che il codice ISIN, cioè ci sono due tipi delle aziende, quelli che entrano in Ipo e quelli che non entrano in Ipo, cioè non tutte le aziende hanno codice ISIN, è una procedura che ha delle burocrazie, per questo alcune aziende non la fanno anche per questo motivo, codice ISIN. Ok, Maxime. Sì, scusa Tatiana, su questa domanda viene sorge perché giustamente sono state date informazioni magari non proprio corrette, quello che loro intendono è che essendo sul certificato un codice è stato dato come codice ISIN, il codice ISIN non è quello, quello è un codice ISIN di incorporazione, quindi se si va su EuroAsian, quel codice c'è e compare la schermata dell'incorporazione della nostra azienda, quindi dell'azienda che detiene i titoli, detiene le quote. Il codice ISIN, come ha detto appunto Maxime, viene dato quando un'azienda vuole entrare in borsa e quindi trasforma quelle quote in azioni. In quel momento viene dato un ISIN code all'azienda, quindi che rappresenta le quote, andando poi sul tipo di borsa che l'azienda sceglierà, se a livello europeo c'è Euroclear, si va in Euroclear, si mette l'ISIN code ed esce fuori vita morte miracolo delle azioni, delle aziende e tutto. Quindi c'è da fare una distinzione, fin quando l'azienda non trasforma le quote in azione non c'è un ISIN code di riconoscimento, quello è un codice ISIN di incorporazione, vuol dire di incorporazione delle aziende che sono detentori poi delle quote. No, riconosce l'azienda che è una SPL che può vendere le quote, ma non è un codice di riconoscimento delle azioni, perché non sono azioni, sono quote. L'ISIN code viene dato dopo che l'azienda ha trasformato in azioni, quando inizia la fase IPO, come ha detto prima, ma sì. Ok, Domenico, c'è l'ISIN nome, è che è l'ISIN, 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 l'ISIN ipot Julio? le primi azien, la prima holding apprezzo azien poi l'azienda madre non ha più considerato probabilmente necessità di fare questa procedura anche per altri holding, per questo non l'ha fatto. Esatto. 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 che Anatole Edoardo Cienizzi controlla la compagno, non è successo. Cioè, tutto in grado di quod, che inizialmente erano per gli investitori, non è vero, non è vero. Просто, постependo, si è vero, si è vero, si è vero per gli investitori. Ok, Maxime ha detto che sapete tutti che adesso c'è il holding terzo, hanno creato il holding terzo e ci sono delle quote in questo holding che all'inizio erano pianificate, cioè la quantità delle quote per concludere 15 tappe, non è cambiata come era pianificato dall'inizio ed è così, e il terzo holding adesso è aperto più che altro per investitori grossi che stanno adesso aggiungendo al progetto, tipo Emirati Arabi, Quindi la terza holding è stata aperta per i grossi investitori che stanno per arrivare. Si, Maksim, ma in 3 holding, кроме больших investitori, possono vederci anche i nostri investitori, come i noi, come in natale? Adesso vengono vengono, alcuni investitori, che vengono 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 vengono, come i nostri compagni. Nelche vengono vengono vengono, e in le nostre compagni, noi ancora facciamo i nostri compagni, nel secondo E-RSS Holding, ma ora dovranno riuscire ad E-RSS Holding 3. Al momento, InSuite, sia per investitori grossi, sia per investitori di qualsiasi misura, in Skyvennes Group stiamo finendo le quote di Holding 2, e tra poco passeremo anche noi a Holding 3. Perfetto. In ogni Holding Anatoly Dardovic e Unitsky ha un pacchetto di controllo, cioè di controllo, come si dice, maggiore. Le quote di maggioranza. Penso che la sicurezza è garantita. Perfetto. Perfetto. Bene? Si sente malissimo la tua voce. Si sente male? Adesso si sente bene. Allora, ho detto, passiamo alla prossima domanda, tu rispondi poi, io lo traduco a Maxime, Maxime se avrà un... Passiamo alla 8. Oltre alla realizzazione delle linee di trasporto, come gli investitori possono ottenere vantaggio dagli altri progetti dell'azienda, cioè l'auto per i meno abili, le case passive, che non so cosa sono, vabbè, l'humus, quando si potrà fare la compravendita, cioè la società venderà da soli questi prodotti sul mercato, oppure gli investitori potranno acquistare da sui e poi rivendere, proprio per proprio conto. Gli investitori SWIG avranno dei prezzi particolari, se possono acquistare questi prodotti, come può avvenire l'acquisto, con quale moneta, acquistando, con quale moneta e acquistando si avranno in cambio dei corsi di formazione. Allora, poi c'è un miscuglio di cose che praticamente c'è poche idee e ben confuse. Partiamo dal presupposto, stiamo parlando di investitori. Noi oggi siamo investitori, quindi abbiamo investito in corsi di formazione, ci hanno donato delle quote di questa azienda, ma non siamo agenti venditori di Skyway. Quindi, chiaramente, i prodotti di Skyway li venderà sempre Skyway, come sta facendo adesso, come vende i treni, come venderà le case, come venderà, darà la possibilità, chiaramente, a chi avrà il volo di acquistare, di poter acquistare, ma non c'è, diciamo, un canale per poter acquistare, ma non c'è sempre il canale tradizionale. I vantaggi che l'investitore trae da questo è la stessa cosa della linea. Che l'azienda faccia il treni, che l'azienda faccia case, che l'azienda faccia unus, che l'azienda faccia macchine, comunque produce un utile a questa azienda. E noi prendiamo i dividendi sugli utili dell'azienda, su tutto ciò che vende. Quindi non è che noi partecipiamo solo alle linee, noi siamo proprietari delle quote di Skyway. Quindi, cioè, tutto quello che Skyway produce, fa e realizza, noi avremo i dividendi. Quindi tutti questi prodotti elencati rientrano in Skyway. Quindi noi guadagneremo su tutto quello che fa Skyway. fa le linee, guadagniamo sulle linee, fa le auto, guadagniamo sulle auto, vende l'humus, guadagneremo sull'humus, farà le case, guadagneremo sulle case, avremo sempre i dividendi su tutto quello che fa. Quindi non è che noi guadagniamo solo sulle linee. Noi siamo investitori, siamo proprietari delle quote di Skyway. Quindi guadagniamo su tutto ciò che Skyway fa. Poi, i prezzi sono sempre quelli, quando sarà il momento, metteranno fuori i pacchetti, chi vuole acquistare la casa, metteranno fuori i prezzi. In questo momento ancora non c'è, quindi non possiamo dare questa informazione, perché non lo sappiamo. Acquistando si avranno in cambio corso di formazione. Mi sembra strano, perché noi acquistiamo formazione e ci danno le quote. Quindi non è che adesso acquisteremo le quote e ci danno la formazione. Quindi su questo non penso proprio. Ok? Vado avanti? Allora, un'attimino, faccio breve per Maksim. Maksim, вопрос состоит в том, che, значит, кроме транспортных линий, в компании существуют другие проекты, come ecodoma, автомобile per invalida, humus e così d'allia. quando è possibile quando è possibile продare. Compaura può fare se o o o in o o o o o o o o che si possono comprare questo svig e riprodurre come un'immagine. E ci sono le nostre cene per questo, e in quali valutti e come questo si può fare. E ci si possono avere un'imagine ancora più дополнительные kursi, покупando questi prodotti. Per questi prodotti abbiamo ancora non avevo parlato di detenere. ma di ogni progetto, che è stato creato in 15 etapi, che noi finanziamo. Quindi, noi abbiamo avuto questo dividero, правильно? Sì, e tutti i altri progetti, кроме транспорta, anche i nostri progetti, anche i nostri progetti, e di queste progetti 20% di dividero aiutare tutti gli investitori, e anche i nostri progetti, non solo le linee, ma anche, come aveva detto Domenico, le macchine, l'eolumus, eccetera, eccetera. Ma, ovviamente, abbiamo avuto varianti di scuola con Inizia, ci sono delle condizioni, che se abbiamo avuto un gruppo di investimento, che accadrà, per esempio, un'argete o qualcosa di più di tecnologia, ma anche possiamo avere una comissione con questa comissione, e credo che questa comissione automaticamente spostituisce in questi proiettori. Ma anche noi stiamo fare un concetto pericolore, cioè questo è un bonus per aiutare, per aiutare un cliente e un investimento. Perché, proprio недавно, у нас партнеры из Казахстана spрашивали, возможно ли заказать, например, струнное ограждение. И я обращался в корневую компанию, разговаривал с Надеждой Косаревой. Она сказала, что да, можете заказать, если это не маленький заказ, то есть очень большой заказ на большую сумму денег, и эта сумма будет интересна корневой компании, то тогда они смогут выделить специалистов, которые будут заниматься конкретно вот этим проектом. То же самое касается Гумуса и так далее. Но это вопрос очень большого заказа, потому что если заказ будет небольшой, то компания сейчас будет концентрироваться только на адресных проектах в Арабских Эмиратах и каких-то еще нескольких крупных проектах. Те, которые сейчас стратегически важны. Хорошо, давайте я переведу. Значит, allora, Максим ha detto che per quanto riguarda non линии для транспорта, но и другие инвенции Skyway, noi potremmo, come collaboratori SWEET, potremmo anche, abbiamo l'accordo con l'azienda madre, che i nostri collaboratori, se hanno un investitore grosso, che, come è capitato adesso a Maxime, un nostro collaboratore di Kazakistan, ha chiesto se può, ha una persona che vuole acquistare Recinto Skyway. Maxime, ha contattato la moglie di Anatoly Yunitsky, lo, diciamo, direttore generale, ha detto di sì, se è un progetto molto ampio, cioè, se ci vuole tanto, tanto questo Recinto Skyway, lo potranno iniziare a fare, ma, se saranno i progetti piccoli, daranno la preferenza adesso al progetto negli Emirati Arabi. Ma, se fosse un grande investimento, lo considereranno, come collaboratore SWIC, noi potremmo avere anche guadagno anche su questo. Chiaro? Perfetto, perché, come anche nei progetti locali, se in questo momento non si presentano, come aveva detto anche Andrei a Roma, non si presentano progetti di una certa valenza, l'azienda in questo momento è concentrata su Dubai e quindi porterà avanti il progetto degli Emirati Arabi. Qualsiasi cosa l'Ubara? Sì, ma, diciamo, un grande... E, per favore, Maksim, se noi possiamo produrre questo, ah, in principio, voi già dicevi che possiamo provare molti investitori. Sì, 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 se adesso chiunque può avere molto molto investitori, può rispondere su il no tam necquich procento di investimento che ha , sono , , 4% può rispondere 2-3-4% avanti attraverso che si sono molto e gruppi di summe, ma possono realizzare le proproteche in questa compagnia. Ok, sì. Allora, se sarà un investitore grosso, ad esempio, per questo recinto Skyway, e l'azienda madre lo considererà, diciamo, valido per dedicare adesso, in questo momento, tempo per realizzare questo progetto, il collaboratore SWIG potrà avere 2, 3, massimo 4% su questo investimento, naturalmente dopo il pagamento che è arrivato da un investitore. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Ok. Allora, la prossima domanda è un po', ce ne sono uno o due che sono uguali, penso che sia la stessa persona che la faccia. La leggo, poi argomentiamo. Quando si parla di un progetto in generale a qualcuno che non lo conosce, per sincerarsi, alcuni guardano in internet, le recensioni. Questo è successo anche a me. Se scrivo recensioni Skyway, troviamo sempre notizie negative. Di fronte alle persone ci si trova disagio, ma bisogna subito controbattere. Insomma, e qua già ti dai una risposta da solo. Insomma, con quale fatto negativo che è successo con la Consum? Se ho capito bene, Skyway è stata discolpata. Allora, qual è la sentenza, numero e data emessa da chi e cosa contiene? Quando conosciamo questi dati, possiamo rispondere in modo professionale. La domanda poi dice, con quale motivo Skyway è stata discolpata dalla Consum con la sentenza numero e data emessa? Allora, facciamo un passo indietro. Skyway non è mai stata, non ha mai avuto nessun accertamento dalla Consum, prima di tutto perché Skyway non c'entra. La Consum ha sanzionato un partner di Skyway Invest Group e un partner di Skyway Capital. Queste persone hanno usato in modo improprio i nomi e i loghi del Skyway Invest Invest Group senza autorizzazione per promuovere vendita di quote in Internet, in Facebook, sui social. Quindi questo è il reato commesso. La Consum non ha mai fatto nessun accertamento. È stata, anzi, l'azienda Skyway Invest Group a segnalare questa cosa, a segnalare che non aveva mai autorizzato questa persona e la Consum non è che ha emesso una sentenza perché non esistono sentenze, non è un reato. Quindi ha, sì, chiamiamo la sentenza per capirci, con una lettera sospeso e oscurato diciamo il sito di questi due signori, proibendo di fare promozione di vendita di quote societarie sui social perché non avevano i requisiti, non essendo promotori finanziari e non essendo con un mandato da una sim non si possono promuovere delle vendite di quote societarie. Questo è quello che è successo. La Consum ha fatto una lettera dove è stata pubblicata, adesso non ho, non ricordo, a febbraio l'anno scorso, marzo l'anno scorso, ha fatto questa lettera dove diceva appunto a questi signori di interrompere tutto quello che è la loro attività su internet. Questo è tutto il caso Consum che è successo. Poi, se andiamo a mettere su internet le notizie vengono sempre fuori quelle, ma è solo quella, non è che vengono fuori quelle, perché ce n'è una sola ed viene fuori, ma alla fine penso che non ci sia nessun tipo di problematica. a me non ha mai fatto, nessuno ha mai detto che c'è una, sì c'è una recensione sulla una cosa della Consum si spiega perché una persona ha fatto uso dei social, dei canali internet promuovendo la vendita di quote senza autorizzazione e ha usato i marchi e i nomi di SWIG senza autorizzazione. E quindi SWIG è stata discolpata e lui è stato sanzionato di smettere di fare questo tipo di attività. Ok? Sono stato chiaro? Tatiana, sono stato chiaro? Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è un problema per la situazione, che alcuni partnere hanno prodigato un progetto, condivendo le accioni SkyWay, e sono statati in un'imitato con una associazione, che si chiama consob, che si chiama finanziamenti in Europa. E questi人 e i chiamati i nostri spi scopo. Quando i studenti cercano i scopo, la scopo di scopo, la scopo di scopo con scopo. E scopo di scopo, che la scopo delle scopo di scopo in questo caso. In questa scopo di scopo di scopo. le persone, che non правильно prodigavano il progetto. E i miei sallati sono in questo sito dell'associazione CONSOB. E i nostri un partnere italiani era postata una pizia, che lui permettezioni prodigate il progetto Skyway Io ho capito di questa situazione. 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 E proprio per questo motivo abbiamo le quote in cambio come un regalo. Ma non le vendiamo le quote. E questo lo dovete capire e dovete trasmettere a tutti i vostri nuove persone che entrano, che loro capiscono chiaro, per non avere queste situazioni, cosa comprano e in quale modo diventano titolari Skyway. Perfetto. Perfetto. Andiamo alla prossimo. Allora, questa è una domanda. La leggiamo. Quando verrà inserita. Skyway. Allora, carissimo che non so chi sei perché non c'è il nome, ma prima di tutto dividete sempre il sito della casa madre, che è Skyway e il vostro back office, che è Skyway Invest Group. Se entrate sul sito Skyway Invest Group e quindi entrate nel vostro back office, se avete un computer normale, cambiate la bandierina, mettete quella italiana e vi traduce tutto. Quindi mi sembra strano che tu abbia le notizie in russo. Io le ho in russo, in americano, in spagnolo, in italiano. C'è la bandiera italiana e mi traduce tutto in italiano. Forse dovresti imparare a usare di più il back office. Su quanto riguarda l'inserimento della lingua italiana sul sito ufficiale della casa madre, questo però non mi sentirei di risponderti perché purtroppo è in russo e poi in inglese, che è la lingua internazionale. Ma entrando sempre con un computer, con Goal, ti fa la traduzione immediatamente il computer senza che neanche bisogna cambiare la lingua. Quindi penso che devi solo imparare un po' di più a usare il back office e poi questo problema lo puoi risolvere da soli. Noi non siamo investitori di serie B, anzi noi siamo investitori di serie A, ma di serie A e di Champions League, visto che siamo sempre tra i primi a livello Italia come investitori, diciamo, in SWIG. Quindi siamo la Champions League, non la serie B. Ok. 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 che il mio diritto intervento intervento, non ho messo il risultato di qualità dei documenti, che sono stati dei nostri compagni, in particolare, questi sono i dati dei dati dei dati. Perché i dati dei dati dei dati, la finalità della versione, e il mio перевodito ha fatto il mio перевodito, a che io conosco, e io conosco, e io conosco, e io conosco, e io posso garantirizzare questo перевodito, e vediamo il nostro paese, Vозможно, что мы переведем дополнительно этот договор для ознакомления для наших партнеров, но юридическим языком, под которым компания поставит свою подpись вместе с этим партнером, будет только английский, либо русский. На сегодня мы таким образом просто подstраховываемся от неправильного толкования каких-то положений этого договора. Я все языки не знаю, не могу гарантировать. Они спрашивают про вообще все официальные сайты главной компании, к которому мы вообще не имеем отношения. Ну, я переведу то, что и вы сказали по поводу документов. Как решить, у нас есть наше сайт, с continuами документами, как у них есть контракты, как и судяется, как вещество Наши белый пункт, все наши законы и английские, как и другие языки, trilingue che ci sono nel back office, non è riconosciuta, voi potete tradurre il linguaggio di ogni paese, il linguaggio giuridico, talmente preciso che Skyvenus Group non può dare garanzie giuridiche su che questa traduzione, fatta da un traduttore proprio giusta, comporta tutto che c'è nell'accordo, per questo giuridicamente le versioni ufficiali dei documenti sono in lingua russa e in lingua inglese. Tutte le internazioni a livello internazionale si fanno in lingua inglese, quindi è la lingua riconosciuta a livello legale. Siamo alla 13 dove dice sono proprietario di quote della società, vorrei conoscere il modo in cui trasferire queste quote dal mio account Skyway, che lui ha un account Skyway, al mio deposito presso la mia banca, grazie della risposta. Allora carissimo, tu hai un account Skyway Invest Group e non un account Skyway. Le quote non sono quote e quindi sono quote di una società con un certificato cartaceo, quindi l'unica cosa che puoi fare, se vuoi metterlo a sicuro, prendi il certificato delle tue quote e lo porti su una cassetta di sicurezza tua e lo lasci in banca. Non si possono mettere su un conto titoli, perché non è un titolo telematico e quindi fino a quando non diventerà un'azione, non diventerà telematica, non si può trasferire su conti. Questi sono ancora delle quote, quindi sono delle quote con un certificato cartaceo. L'unica cosa che puoi fare è metterlo al sicuro, tenerlo in una cassetta di sicurezza in banca, se per te è più tranquillo. Okay, Medicali sono problemi. Un'ora è una delle quote con un porti, e io voglio che io stessi per mingendere in un porti, l'unica cosa che puoi fare, in un porti, in un porti, in un porti di un porti. se non è un'accia, è un'accia di dolly, noi possiamo solo prendere i certificati, che abbiamo scacciato, o il formaggio di domani, che ci sono arrivati, e i certificati possiamo metterlo in banca e mettere in camera di trattamento. Certificati, registro, 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 registro. Si, abbiamo anche registro del registro. Non solo certificato, ma anche estratto dal registro di azionisti, IRS holding. Anche questo è un documento importante. Al primo posto come documento va, anzi, non certificato cartaceo, ma questo estratto dal registro di azionisti e poi dopo certificato, che, diciamo, questo certificato si fa alla base su dei dati dell'estratto del registro di azionisti. degli azionisti. Certo, il certificato viene emesso in base ai dati che ci sono sul registro degli azionisti. Se tu sei presente sul registro degli azionisti con le quote da A, ti viene emesso il certificato a nome tuo che sei azionista del possessore di quote da A. È un certificato cartaceo che te lo devi tenere a casa chiuso e che è l'unico documento insieme al registro che certifica il tuo possesso delle quote. Allora. vorrei sapere se e quando ci saranno i dividendi dove verranno accreditati se bisogna aprire altri tipi di conti correnti e se gli utili dovranno essere dichiarati al commercialista allora gli utili chiaramente i dividendi ci saranno perché l'azienda sta iniziando a produrre sappiamo benissimo che tutte le aziende applicano la conservazione del bilancio in una tale data che viaggia da maggio a giugno e dopo 30-60 giorni che hanno approvato i bilanci ci saranno i dividendi se noi teniamo conto che stiamo parlando la domanda penso che si indichi a Skyway chiaramente l'azienda 2019 sta iniziando a lavorare sta iniziando a fatturare quindi nel 2020 a maggio farà un bilancio presenterà il bilancio sarà il bilancio accettato ci saranno degli utili e in quel momento come ha detto Maxime il 20% di quegli utili sarà dato agli investitori come dividendo ok e questo sì che sono certo che ci saranno ma parliamo cominciamo ad avere i primi dividendi Skyway Technology nel 2020 probabili sicuri nel 2021 dove verranno accreditati chiaramente sul vostro conto corrente quello che darete dove mandarvi i dividendi se bisogna altri tipi di conti no, basta il vostro gli utili dovranno essere dichiarati sui commercialisti gli utili devono essere dichiarati al fisco più che al commercialista perché su quei dividendi su quei utili siccome sono dividendi da investimenti bisogna pagare il 26% sulla differenza dall'investito all'utile quindi chiaramente ci dovete pagare le tasse chiaro? grazie a tutti Maksim grazie a tutti 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 poter direi attra провернуть потому что я просто понимаете мы должны сначала построить чтобы с них уже получать прибыль эти дивиденды то есть это процесс живой есть планы есть реальность я не говорю что это отсутствует компания может где-то задержаться где-то сделать быстрее что-то мы сейчас не можем просто точно говорить какие-то даты но я думаю что это достаточно уже скоро вот по поводу того что нужно задекларировать доход и заплатить налоги это да естественно вот во многих странах мог платится уже на следующий год после получения таких дивидендов и подается декларация в налоговую инспекцию о том что был получен доход ну посмотрим как там дальше будет по поводу счетов компании но в целом да все правильно по поводу счетов то есть это может быть и обычный счет в банке который человек использует то есть тот счет который он предоставит для получения дивидендов правильно да я думаю что это может быть даже будет работать таким образом что извлечь и в личный кабинет будет дивиденды начисляться возможно так и с личного кабинета уже человек будет выбирать доступные наиболее для него способы вывода возможно так это будет но более точно мы сможем сказать когда уже подойдем к разработке самого процесса перечисления денег то есть вариантов много мы будем учитывать опыт мировые компании в этой области применять его у себя окей окей allora sì per quanto riguarda i tempistici quando sono dividendi come sapete dobbiamo costruire cioè realizzare dei progetti avere degli utili come ha сигнал то домenico tutta questa procedura e dopo di questo possiamo avere dividendi cioè precisa data in mano è difficile di inutile di dire di pronunciare perché non possiamo prevedere tutto ma vedendo lo sviluppo dell'azienda può essere tra non molto tempo per quanto riguarda delle di conto corrente noi al momento quando quando arriverà il momento di pagare i pagamenti dei dividendi vedremo i possibili modi in quel momento che esistono sapete che il mondo finanziario cambia molto velocemente consideriamo le pratiche che usano diciamo altre aziende bilanciamo tutto e vediamo come può essere anche che arriveranno in il nostro back office i dividendi e voi dal back office potrete già scegliere dove volete prelevare su quale conto corrente o altro modo che volete usare per prelevare i dividendi e poi naturalmente dovete pagare la tassa su su questa su questo guadagno in italia come avevo detto domenico c'è la sua tassa e dichiarare questo da in una struttura che si occupa delle tasse andiamo avanti ma diciamo questa domanda ha già risposto maxime in questo momento perché dice i futuri redditi lui ma forse intendeva le rendite verranno dipositate sui nostri wallet in automatico come hai appena detto tu hai appena risposto al momento che ci saranno da si studierà un sistema o sul wallet o sul back office o altri sistemi l'azienda troverà un sistema meno facciante per voi quindi metterà sul wallet sul back office e poi voi li trasferirete sui vostri conti senza problema allora andiamo qua alcuni chiedono come fa un certificato azionario come sopra scritto euro asian con sopra scritto euro asian rail skyway system holding 2 ltd ad avere un valore se non vi è un easing associato hanno il dubbio che non sia un vero certificato azionario e quindi non siano in possesso di azione delle aziende madre allora carissimo fino a quando tu pensi che avendo i certificati delle proprietari delle quote sei ancora proprietario delle azioni è proprio sbagliato noi siamo proprietari di quote di skyway non azioni come abbiamo detto all'inizio le quote leasing che c'è su certificate è un easing di incorporazione dell'azienda come ha detto max in prima all'inizio ha chiesto il primo codice le altre due non ha chiesto il codice perché non gli serviva quindi ma è un codice di incorporazione aziendale leasing code si ottiene solo dopo aver attivato la fase ipo quindi trasformare ltd che in italia significa srl in una società per azione quindi la trasformazione per la fase ipo ok la fase ipo vengono fatte dalle società che desiderano entrare nel mercato controllato mercato controllato e la borsa quindi in quel momento siamo possessori di azioni quindi abbiamo delle azioni un certificato azionario con un easing code ma oggi abbiamo un certificato di possesso di quote di una azienda ok quindi non confondete le idee alle persone noi abbiamo delle quote non sono azioni sono quote societarie sto come una srl che divide le sue quote è app 10.000 soci in inglese è paragonata alla srl italiana chiaro ok ok tre du cammini ok значит здесь здесь вопрос опять же про этот easing и они спрашивают как чертификат а акционный сертификат как написано евроазиан ria skyway system holding dui может иметь как бы может быть действительным если у него non c'è l'easy no coda e alcuni hanno sondimenti che avevano accioni l'organizzazione e come dice che non abbiamo accioni abbiamo quattro abbiamo dolli e solo dopo come come se la compagnia vede na IPO, queste dolly diventano in accion, e allora abbiamo un'easing code. Ora abbiamo un'easing code, questo non è un'easing code, è due diverse cose, e abbiamo un'easing code, non accion. Chiedo di внимание a tutti, se siete informati, o non accionate le nostre informazioni, queste cose che riguardano SkyWay. Ora abbiamo un'easing code, ci sono stati costruzzi in Aramia. Abbiamo un'easing c'è un'easing vicepresidenta Aramia, nasolata d'Embaia. E come voi pensi, questo è stato un'easing? Allora, Maxime ha detto, aggiungendo alla risposta di Domenico, che vi ha chiesto di prendere attenzione e vedere se non seguite le novità di back office, andare in back office e vedere quanti ci sono le novità e video sui progetti di Emirati Arabi con delle persone di altissimo livello di questo paese. E pensate bene, se fosse un progetto non esistente, Skyway, la sicurezza di queste persone li permetterebbe apparire nei video, negli articoli, nelle foto sulla nostra tecnologia? Giustamente ha ragione, Maxime. Dice se, come dici tu, che non ha valore e non esiste, un'azienda come RTA, che gestisce tutti i trasporti degli Emirati Arabi, si potrebbe mettere a lavorare con un'azienda che non esiste. Già questo dovrebbe essere una garanzia di serietà dell'azienda di cui voi siete possessore di quota. Andiamo avanti. Dopo dice, quando sarà possibile liquidare una piccola parte delle proprie quote azionarie? Anno di adesione 2018. Mio carissimo, alla fine della fase 15, quando si chiuderà la vendita di tutto il pacchetti, l'azienda aprirà un borsino interno per poter scambiare le quote tra di noi. In quel momento potrai cederle. Non prima. Ok, questo è un'altra domanda che vorrei parlare, quando si può produrre l'azienda? Quando si chiuderà la 15 età? Andiamo avanti. Salve, volevo sapere se esiste un documento che certifica con i fatti, ad esempio, all'azienda sono entrati 100 milioni, e li ha utilizzati per questo e per quello. Questo documento, che tu vuoi sapere se esiste, si chiama bilancio. Il bilancio viene depositato ogni anno. In Italia, i bilanci delle società, SRL e SPA, sono pubblici. Quindi, questo non lo so, dobbiamo chiederlo a Maxime, se i bilanci aziendali sono pubblici o no, perché noi siamo di diritto inglese, quindi non lo so, questo dobbiamo... Possiamo chiederlo a Maxime? Maxime, qui c'è un documento che potrezzano, che in compagno si sono stati di 100 milioni euro, e sono stati utilizzati per questo, per questo, per questo. E se un documento, e se... Domenico dice, che è un bilancio in Italia, in Italia, in Italia, questi documenti sono stati pubblici, quindi si possono pubblicare, e si possono spiegare un compagno, se ti bisogna spiegare un compagno, se ti bisogna spiegare un compagno, e in Skyway, se si possono pubblicare. Sì, Maxime ha detto che ci sono dei documenti dove si possono vedere tutte queste informazioni e Skyway li darà a pubblico, per scorso anno abbiamo avuto a maggio mese e aspettiamo anche per 2018, aspettiamo a maggio di quest'anno, sono accessibili, tutte le cose che sono in lingua russa, come aveva detto Maxime, siccome l'azienda può dare una garanzia 100% alla traduzione di diverse lingue, delle parole specifiche, il linguaggio specifico rimane questo in lingua madre, comunque questi documenti sono accessibili. Allora, volevo sapere quando si potrà ritirare l'investimento o la capitalizzazione dello stesso? La capitalizzazione del tuo investimento è la capitalizzazione dell'azienda, allora il tuo investimento potrai ritirare se decidi di vendere le quote dal momento che l'azienda aprirà un borsino interno e si darà la possibilità di scambiare le quote tra di noi, oppure al momento che l'azienda aprirà la fase IPO e se decide di fare solo la fase IPO, quindi non l'altra, quindi aspettare che entri in borsa e dopodiché decidi di vendere le tue azioni trasformate, le tue quote trasformate in azioni, non prima. Ma anche i dividendi non parla dell'investimento, non dei dividendi. Lui dice che vuole sapere quando potrà ritirare l'investimento, vuol dire vendere le quote risposte che lui ha avuto il regalo. Poi è chiaro che tutto questo... Hai risposto? Sì? Dimmi. No, no, dicevo hai risposto e volevo tradurre a Maximo. Chiaro che nel tempo che lui c'è da aspettare, se l'azienda avrà i dividendi, lui li prenderà. Che l'azienda vada in borsa, non vada in borsa, faccia la faccia IPO o non la faccia, noi ogni anno prenderemo i dividendi di questa società. Questa è la rendita passiva, questa è la rendita annuale che ci permetterà di avere la libertà finanziaria, non la vendita delle quote, perché dal momento che io vendo le quote o vendo le azioni non ho più nulla. Quindi tenendomi le quote, tenendomi le azioni, io tutti gli anni avrò la rendita passiva di questa azienda, avrò i dividendi di questa azienda. Questo è il sistema, questo è il nesso della cosa. Vai traduci. Allora, questa è la questione, quando io смогu ottenere le investiture e la capitalizzazione dei miei investimenti? Quindi, Domenico ha detto, che quando ottenere le investimenti, noi possiamo между нами prodare le investimenti, quindi tu puoi ottenere le investimenti, o se si è venuto in IPO, tu puoi prodare le investimenti, o se ti puoi ottenere le investimenti, quindi tu puoi ottenere le investimenti, tu puoi ottenere le investimenti. O SkyWay è un potenziale, che più di più iniziare adresi proiecti, trac, obietti, dove si permetteva la tecnologia SkyWay, più più, ovviamente, potrebbe essere arrivato in compagno, e più più iniziare divideri. E, соответственно, con popolare, con spostruzione SkyWay la popolazione SkyWay è riuscita alla città delle aczioni SkyWay. E dopo l'IPO e dopo l'IPO? Allora, il progetto SkyWay ha un potenziale enorme. Naturalmente, più progetti realizziamo, più saranno i dividendi. All'inizio i dividendi saranno così, dopo passano gli anni, realizziamo più strade, più progetti, più case ecologiche, eccetera, eccetera. Cresce la redditività dell'azienda, naturalmente crescono anche i nostri dividendi. E naturalmente cresce anche il prezzo, il valore di una quota al momento, e dopo l'IPO un'azione, crescere anche il valore di una quota al momento. E stessa. E andiamo. Adesso, Maksim? Dada. Ora, quando si tratta di un'interrata, io consiglio fare un'interrata in un'interrata in un'interrata di un'interrata di un'interrata. è una spazializzazione. La compagno è una compagno di Cipria. La Cipria è una compagno di Limassol. E qui, noi otteniamo l'opzione del registro, qui è una copia di questo registro di Cipria. È una copia di registro di ogni ERS-Holding. E questo è un'epitore con la contattazione con la contattazione di Stratagio. E la questa è una copia di Stratagio. Ok, Maxime voleva aggiungere per quanto riguarda la documentazione che conferma il possesso che voi siete proprietari e queste quote sono vere, quindi alla fine della quindicesima tappa, lo consiglio a fare proprio alla fine di quindicesima tappa perché noi stiamo acquistando, continuiamo ad acquistare le quote, i pacchetti con delle quote eccetera, ma alla fine di quindicesima tappa voi potete richiedere dall'azienda madre un altro estratto del registro degli azionisti da un'azienda esterna perché quello che abbiamo adesso è da azienda madre, poi ci sono delle aziende che tengono registri degli azionisti di diverse aziende, hanno solo questo compito, noi abbiamo questa, l'azienda madre ha questa azienda che si trova a Cipro, e voi alla fine della quindicesima tappa lo potete richiedere e sarà un altro documento che in più confermerà che le quote siano vere e che voi siete il possessore di queste quote. Grazie a tutti. adesso, ancora io credo, ancora rano, a conoscente 15-go etapa, a cui soprattutto grandi pakete dali è, io credo che credo che a questo tempo noi abbiamo fatto un paket di questi aspetti, e noi abbiamo fatto un'escrizione con il compagno, come fare un'organizzazione, per poter mandare un'escrizione e ottenere un'escrizione quando non si abbracciano questi approcci in Kipri. Una di HL è siccome una cosa costosa che richiede il prezzo, come avevo detto noi continuiamo ad acquistare i pacchetti per non prendere più volte questo certificato, non pagare più volte. Quindi, Maxime consiglia fare una volta alla fine di quindicesima tappa e anche magari facciamo un accordo con l'azienda madre per fare questa procedura in modo organizzato per risparmiare sia tempo sia soldi per un gruppo di persone o per un paese, eccetera. Comunque, Maxime lo consiglia a fare alla fine di quindicesima tappa, soprattutto per le persone che hanno i grandi pacchetti delle quote. Bene. Andiamo avanti? Sì. Domanda Ho comprato delle unit tramite un partner Skyway che mi ha detto che le mie unit avranno presto un valore del rapporto 1 a 1 con il dollaro e che un giorno, quando Skyway sarà quotata in borsa, le mie 42.000 unit, pagate circa 930 euro, saranno 42.000 dollari. Tutto ciò mi sembra impossibile. Sarebbe un investimento con un ritorno altissimo. Ma ovviamente spero che sia vero. È vero, sì. È vero. Comunque, tu non hai comprato nessuna unit da Skyway, ma hai comprato un corso di formazione da un valore di circa 930 euro, quindi da 1000 dollari, in cui con questo corso di formazione ci sono state donate 42.000 unit, 42.000 quote di Skyway. Ok. Quando la fase 15 sarà terminata, quindi quando l'azienda aprirà il borsino interno, quelle quote avranno un valore da certificato di un dollaro. Quindi saranno scambiabili all'interno del circuito nostro con un valore di un dollaro. Quindi tutto questo è vero. No, è vero. Grazie. 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 Andiamo avanti. Grazie. Vorrei capire quando effettivamente saranno tramutati in azione vere e proprie, che prezzo saranno messe sul mercato, su quale borsa, quando è severo che potrò ritirare e incassare il prezzo di un dollaro per ciascuna unit. Grazie. Una rivendita interna riservata solo ai finanziatori soci come me. Allora, se noi avremo la sfera magica per sapere il prezzo che saranno messe sul mercato sarebbe bello, ma purtroppo non l'abbiamo. quindi il prezzo che le quote entreranno, cioè che l'azienda entrerà in borsa, se entrerà in borsa, il valore che avranno le azioni non è dato a sapersi oggi, però c'è tutta un'analisi da fare su un'azienda che sarà fatta dagli analisti delle varie organi di controllo che stabiliranno quello che può essere il prezzo di, in fase IPO, stabiliranno il prezzo che sarà messa sul mercato. Non possiamo stabilirlo adesso, questo valore. Su quale borsa? Penso che questo lo sceglierà l'azienda. Su quale borsa? Che può essere quella di Mosca. Diciamo che le cinque borse più importanti al mondo, c'è quella di Mosca, fa parte delle cinque più importanti al mondo, quindi penso che sia su quella di Mosca o su quella asiata. Non certo scuola italiana. Quindi, quando e se è vero che potrò ritirare e incassare il prezzo di un dollaro per ciascuna azione, per ciascuna quota? Questo lo potrai fare se decidi di vendere le quote al momento che l'azienda finisce la fase 15, decide di fare un borsino interno, quindi di aprire la possibilità. a lo scambio di quote tra soci. In quel momento potrai cedere le tue quote al prezzo di un dollaro. Ok? Bene. Ok. 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 Quindi non possiamo dire quando è successo. Ma lavoriamo per il tempo, per questo è più veloce. Per la capiretia 15 tappi? Per la capiretazione dolli per la cene. perché dole prodotti per 1 dollari, bisogna essere capitolato. Quindi noi devono costruire una quantità di traccia, che potrebbero prenoti la prevenzione. La capitalizzazione è verificata, che la compagnie è attiva. Attiva liquidi. Le liquidi sono reali traccia, reali obietti, transporti, che già lavorano. Averso ad attiva delle ultime della ciotat che hanno detto, che il un'ecofese nel 2018 è stato rib chinese, questo non è ancora una infezia. E non è un'infanzia informazione, la prima è quanto riguarda la pranzia, Ok, allora, Maxime ha detto che noi naturalmente non possiamo prevedere quando sarà il prezzo preciso delle quote di un dollaro. Naturalmente dobbiamo lavorare su di questo perché per avere una quota un dollaro l'azienda dovrà avere degli attivi liquidabili su un certo valore. All'EcoFest 2018 Anatoly Vimitsky ha detto che adesso l'azienda ha il valore di 5 miliardi per avere il prezzo di una quota un dollaro, l'azienda deve avere il valore di 400 miliardi come la proprietà intellettuale, quello che c'è scritto sul certificato. Quindi quando l'azienda avrà questo valore di 400 miliardi, a quel punto il prezzo di una quota avrà un valore di un dollaro perché sarà confermata dagli attivi liquidabili dell'azienda. Domenico, ho spiegato il linguaggio italiano, va bene? Perfetto. Maxime, dobbiamo fare un periodo? Dunque, molto bene, dobbiamo fare un periodo. Andiamo avanti. Sì. Considerando l'ipotetico investitore titubante, l'investimento in codice ISIN potrebbe essere una garanzia, più dovremmo sapere che cosa è questo codice e quali sono i vantaggi per l'investitore. Allora, il codice ISIN non è importante per nessun tipo di trattativa, io non capisco come voi volete usare il codice ISIN per dare tranquillità. Voi state vendendo formazioni, le quote vi vengono donate in cambio del corso di formazione. Quindi, se state parlando con un investitore è assurdo usare il codice ISIN che non ha un senso, il codice ISIN che abbiamo noi è il codice di incorporazione. Il codice ISIN, lo ripeto, si ottiene solo quando l'azienda accede alla fase IPO e entra sul mercato controllato, quindi sulla borsa. In quel momento si ottiene l'ISIN code. Chiaro? Quindi non entrate in questi discorsi, evitate, parlate del progetto, parlate di quello che vogliamo realizzare, parlate e fatevi vedere cosa stiamo facendo in Dubai. Dai, questi sono gli argomenti che convincono gli investitori. Non certo avere un codice ISIN o un ISIN code. Chiaro? Vuoi tradurre? Sì, sempre nei discorsi che hai già spiegato, magari queste domande che ti ripetono non li... No, non le tradurre perché sennò diventiamo noiosi, è vero. Sì, rispondiamo un po' a volte. Allora, considerando qualsiasi opzione del mercato degli investimenti, è possibile il rischio che questa società non entri mai in borsa? Cosa succederebbe agli investitori alle proprie quote in questo caso? Se mettiamo questo rischio, sì, l'azienda può anche decidere di non entrare in borsa, ma questo non significa che l'azienda vada male. Vuol dire che preferisce lavorare così e guadagnare in questo modo. Gli investitori saranno sempre proprietari di quote, percepiranno sempre i dividendi del risultato dell'azienda. Quindi non cambia nulla. Cioè l'ingresso in borsa non dà una certezza che l'azienda vada bene. Cioè l'ingresso in borsa sì, ok, entra in borsa, ma poi deve restarci. Quindi se l'azienda decide di non entrare in borsa, ma lavora bene così, può anche decidere di non entrare in borsa. A noi i dividendi li prendiamo lo stesso. Non cambia nulla. Quindi agli investitori, se l'azienda non entrerà in borsa, prenderanno comunque sempre i dividendi. E il valore delle quote, come aumenta la capitalizzazione dell'azienda, aumenteranno il valore delle proprie quote. Quindi le proprie quote potrebbero anche crescere di valore. Non è assolutamente la borsa una cosa determinante per la vita di questa azienda. Grazie. Grazie. è un rischio che la compagnia non vede in una biazza e che per l'economia con gli investitori e con gli investitori che succederebbe? Domenico ha detto che non vede in una biazza non è la nostra c'è l'osnovazione anche la compagnia può riuscire e non venire in ogni caso siamo con i nostri dolci e in ogni caso i nostri divideri e anche è possibile rost di dolci non venire la piscina c'è una piscina assolutamente gross rich bell più chi 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 ch 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 le ch 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 e le populiare e le prekrasse per il business otto problemi non si vediamo in una giurata una giurata si si trova e protegge i il 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 Ci sono i plusi e i minusi, i rischi anche. Quindi il rischio di rischio non è necessario per ogni compagnia. Questo è solo uno dei strumenti per il business. Sì, mi ha detto assolutamente giusto quello che ha detto Domenico. Esistono tantissime aziende conosciute che lavorano benissimo, creano il proprio business, guadagnano bene e non sono in borsa. Non è un'opzione che, diciamo, entrare in borsa non vuol dire avere un bel business. Perché si può avere bel business anche senza entrata in borsa. Ci sono dei più di entrata in borsa e dei meno. Ci sono vantaggi e svantaggi. Per questo è una cosa che non vuol dire che se un'azienda non è in borsa ha delle affari, cioè va male. Non vuol dire che va male. Quello che ha detto Domenico è assolutamente giusto. Allora, questa non l'abbiamo già risposta perché si ripete, sempre quando potrà e le tasse, brevi in brevi. Allora, una volta raggiunta la fase 15, quali saranno i mezzi necessari per l'investitore attivo di poter proseguire la propria attività? Raggiunta la fase 15, ci saranno tutti i progetti locali da portare avanti. Quindi l'azienda continuerà. Oltre agli altri prodotti. Ci saranno altri prodotti di cui potete sapere. Che abbiamo già risposto prima, quindi la casa, la macchina, abbiamo anche Maxina già risposto a questo qua, ci saranno anche tutti gli altri prodotti. Quindi l'attività di Skyway non si ferma a le linee, quindi avrà proseguire con altre cose. Sì, anche oggi avremo come Skywayness Group altri prodotti di cui potete sapere, come abbiamo sentito in Malesia, andando sui meeting potete avere tutte queste informazioni. Giusto Domenico? Per giunto, questo dice la propria attività di successo, vuol dire che non sei un investitore ma sei un collaboratore, sei un agente o qualcosa altro. Quindi saprei benissimo che Skyway è un prodotto che Swig ha nel suo portafoglio. Come abbiamo detto in Malesia, ci sono tanti altri prodotti per portare avanti con successo questa attività. Andiamo avanti. Questa è quella che... Io traduco a Maxine. Questa è una questione, quando si accrò il 15th età, ci siamo come come Svig, come Svig, come Svig possiamo lavorare con successo? Svig. 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 Dove andrei proprio da informazioni interessanti sui altri prodotti che sta preparando Skyainwest Group per avere un'attività di successo. Andiamo avanti. Questa domanda è quella che vorrei che rispondesse Maxime sul discorso di trasferire, di fare in caso di decesso del proprietario delle quote, quale documento il proprietario italiano deve preparare, mandare in anticipo se ci sono degli eredi oppure vuole identificare un erede particolare. Quindi quali sono questi documenti che deve fare? Deve mandarle in casa madre oppure no? So che c'è un documento per quanto riguarda la successione delle quote nel caso di decesso del proprietario. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 serve questo certificato scrivere a spigitalia.com oppure a me personalmente e lo cercheremo anche mettere su back office comunque questo modulo va compilato e va diciamo dichiarato da un notaio giusto come si fa in italia viene legalizzato da un notaio si ma allora no diciamo allora autentificarlo dal notaio oppure in un comune perché dal notaio a costi molto alto l'autentificazione di un documento si può dare anche in comune si può autentificare che sia vero quindi il comune mette il timbro e lo si può spedire direttamente in azienda il comune che nel comune sono stati infine il comune attrazione è attrazione 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 e dove funzionare funzioni di nontario. Ci sono stati i organi, in vari stanno, come in Italia comunica, come in edificazione, come in sessi, come in sessi del comune, come in sessi, come in grado di bambini, il politico, работать больнице или лечится больнице например много функции может быть консульство зависит от того где и стране каких ситуациях чек находится ну любое такое официальное принятое подтверждение мы примем обязательно в работу некоторые странах хочу сказать еще суды суды тоже удостоверяют in ogni paese si può autentificare, sì, che poi è la legalizzazione del documento. Sì, questo documento, cioè nei diversi, può essere, dipende da dove si trova la persona, in che situazione, in alcuni paesi può essere fatto anche in tribunale. Certo, certo. Sì, può andare bene anche come ha suggerito Domenico in Comune. Sì, se si è una situazione, che c'è una parte della compagnia, si è una parte della compagnia, si è una parte della compagnia, in questo caso, abbiamo due varianti documenti, che bisogna собrare. Per quanto riguarda quando una persona ha decesso e ci sono degli eredi, abbiamo due modi di fare. Prima è quando gli eredi sono anche i partner's week. Allora, se non c'è la... come si chiama questo certificato di eredità? Sì, ci sono due possibilità, come ha detto Maximo, ho capito. Se c'è un certificato di eredità, quindi che io stabilisco chi è il mio erede, con il certificato che devono compilare e fare autentificare, oppure alla morte di una persona, se non c'è questo certificato, ci sono gli eredi legittimi. Quello che stabilisce la legge, vuol dire che ci sono i figli, sono gli eredi legittimi della persona. Sì, noi adesso parliamo di quei eredi che sono anche partner's week. e non c'è questo certificato di eredità che la persona ha fatto ancora viva. e le persone devono richiedere un estratto della... come si chiama, Maximo? E' un'estrata... E' un'estrata... E' un'estrata... E' un'estrata... E' un'estrata... Quando non c'è il certificato che la persona ha fatto ancora viva, dopo il decesso inizia un processo che si occupa di un'organizzazione oppure un notario, dipende dal paese. Si può richiedere dove stanno chiedendo chi sono eredi, quanti sono, quali beni aveva nel possesso questa persona, eccetera, eccetera. E si può richiedere estratto da quel processo se noi siamo delle persone, degli eredi che non sono registrati in SkyWay.net. Certo, si chiamano eredi legittimi. Eredi legittimi. То есть, мы говорим о том, что либо это будет выписка из этого отдела, либо это будет свидетельство или сертификат о том, кто являются наследниками умершего и какие у них пропorции, доли в наследствии. Può essere o questo estratto dal processo, oppure un certificato che, diciamo, dice chi sono gli eredi e tutti i dettagli, quali proporzioni hanno. Certificato di successione? Non lo so. Si, bravo. Si chiama certificazione, io traduco dal russo, non so se corrisponde in italiano. Certificato sulla prova. Ну, по сути говоря, я скажу коротко, что там самое главное… Un certificato che attesta chi sono gli eredi della persona. Si. Beh, è quello. То есть, самое главное, что должно быть в этом сертификате или в этой выписке написано, самая главная информация, которая нам нужна, это кто является наследниками умершего человека, фамилии этих людей, все, обязательно все наследники. И каждый человек, какая доля, какая пропорция в наследствии. Доменико, vuoi dire qualcosa? Si, in caso di morte prematura, quindi senza certificato lasciato in Skyway, si può andare dal notaio e fare un certificato di eredità, nel senso che in base alla legge il notaio stabilisce chi sono gli eredi di questa persona. Con questo certificato loro possono pretendere l'eredità, quindi il certificato e le quote di Skyway passano a loro. Si, come ha detto adesso Maximo, i requisiti che devono avere quel documento, devono essere scritti tutti gli eredi che ha questa persona. Tutti i eredi, moglie, figli, tutti. Si, e quali proporzioni di eredità hanno? Esatto, in percentuale o in quote, come vuoi tu. Maksim? Esatto, esatto. Esatto. Понятно, да? То есть, самое главное, это может быть, бывают такие certificаты дают для того, чтобы человек искал имущество, наследство за границей. Там обычно не пишут, какое конкретное имущество, не пишут, потому что его не знают. Но для того, чтобы человек искал, у него должен быть документ, что он наследник. И там пишут, что наследником умершего является, допустим, его жена, сын и дочь, например. И пишут, что жена наследует 50% имущества, дочь наследует 25% имущества, сын 25% имущества. Например. И вот нам больше никакой информации не надо. Нам нужно знать фамилии этих людей, и нам нужно знать у кого какая доля в этом наследстве. И тогда мы можем на основании этого уже принимать решение о том, чтобы переоформить доли этого человека умершего на его наследников. Поехали. 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 L'eredi della persona che ha decesso sono la moglie che ha 50%, figlia 25% e figlio, nome e cognome naturalmente 25%. Queste informazioni che basteranno a noi per andare avanti. Nome, cognome, tutti eredi e quanta per cento ha. Perfetto. Ok. Quindi questo documento è un'esplice. C'è un'esplice di questi due documenti. C'è un'esplice di ricerca di un'esplice di un'esplice, un'esplice di un'esplice di un'esplice di un'esplice. Questo è bisogno di avere un'esplice. Allora, oltre a questo, il certificato, secondo documento che deve essere per forza, è il certificato di morte, si chiama in Italia, Domenico? Sì. Di decesso, come si chiama? Cioè, un certificato che conferma che la persona è deceduta. C'è un'esplice di un'esplice di un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice di un'esplice. . Certificat di naso, certificat di смерza e заявление, che sono stati preoformati. Questi tre documenti dovrebbero essere in grigio, in grigio, in grigio? In grigio, in grigio, in grigio, in grigio. A, tutti tre documenti? Non, due. Siamo che la informazione di un documento che è stato fatto, come sono i nostri deli deli. Questo è in un documento. In un documento. In un documento. In un documento. Per esempio, che è stato fatto che c'è stato fatto un processo. C'è un uomo di vita. E'e bisogna перевести? Sì, questo bisogna перевести con un'autorizzazione notariale o consulica, sia nel russo o nell'anglese. E poi ci vuole anche una terza cosa, la richiesta di passare le quote di questa persona a quella persona, con tutti i dati, cioè di questa persona che richiede di dare le quote della persona deceduta. Eh beh sì, è chiaro, quello è il principale. La richiesta di trasferimento delle quote. Sì, la richiesta di trasferimento delle quote. Bene. Ah, e tutto questo va mandato al supporto e il supporto poi darà via a chi serve, a Maxime, eccetera, eccetera. Perfetto. Ok. Tretti documento, è subito alla prosto mi stia napisano trucchi e lina piccata non c'è che prosto poter spostariet spruiva a tom sto prasso per riafformenti d'olio mi sono un amico tam corretto cidoli in a coppia riafformenti e tu dove in casa nasi l'inclipsa come sua buona forma si questo documento questa richiesta deve essere può essere scritta in modo libero al nome di skype invest group e con la firma data e firma come semplice documento e va mandata anche al supporto sul sito e si muove trasportivo napisano to mozano jane italian scama stavliate il documento una scuola di potezio che domenica c'è tutta che per i video sono zaivlini la nostra principale nei per i voto e meno che per un documento questo documento poi questa richiesta può essere scritta in una scrittura normale che si può tradurre può rimanere anche in italiano abbiamo dei traduttori che possono tradurre importante che o stampare o scrivere la scrittura chiara due invece quei due documenti primi vanno tradurte perfetto il pacchetto di documenti è uguale sia per le persone che sono registrati in skype invest group sia che non sono registrati adesso vediamo come proseguiamo e mandiamo tutti tutti i documenti alla al supporto ok per chi sono registrati scrivono il proprio login quelli che sono registrati sul sito e il login della persona deceduta a nell'节��겠습니다 per 다 dell' Cynthia che sto cerclio che lui questo la pagina la pagina la pagina che non sono partenari di KVMS Group, loro bisogna aggiungere documenti, che ci siamo dando quando registriamo. Questo è il passaporto, il passaporto, il passaporto, il passaporto, il passaporto, la famiglia, il nome, il telefono, il passaporto, il passaporto, il passaporto, il passaporto, il passaporto, cioè login e nome e nome. Per le persone invece che non sono registrate in KVMS Group, devono aggiungere anche i documenti, quelli che mandiamo durante la verifica, il documento di identità, il documento che conferma la residenza, il numero di telefono e gli email attuali. Perfetto. E ovviamente in obiettivi, se si sa questa informazione, bisogna aggiungere il login di un ufficio, perché questo scoprì il processo di rafforzamento. In tutti e due i casi, diciamo, è consigliabile indicare il login della persona deceduta per velocizzare tutto il processo. Allora. No, a dopo, per gli altri, che non sono partenari con Vemis Group, quando non ci sono state informazioni, la servizia di potenza con loro, per poterciare i primi questi eseggi per otcretare il nostro gabinetto, perché la reoformazione è stata trasferta il nostro gabinetto. a loro, probabilmente non potrebbero dipendere per il chiamato ucciso per la struttura se c'è una struttura per la 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 struttura per le persone che non sono registrate in SkyVendus Group dopo di mandare tutti questi documenti al supporto Domenico, spegni microfono dopo inviare tutti i documenti vanno ricontattati dal supporto e il supporto gli aiuterà di creare il proprio account perché queste quote potranno trasferire solo ad un altro account di SWEG comunque devono aprire il proprio account personale e probabilmente saranno registrati sotto la persona che ha invitato la persona che è deceduta ok Tatiana mi sa che dobbiamo andare avanti perché siamo già oltre le due ore io devo devi andare via devo partire per Roma quanto tempo hai? eh? quanto tempo hai? 10 minuti ancora ok va bene grazie a tutti Maksim domani domani dice che che mi bisogna chers 10 minuti chiedi se 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 possiamo uscorirsi o 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, se in cassa questi soldi sono sufficienti a generare i primi dividendi, tutti noi oppure l'azienda può riuscire a investire? Allora, se è iniziata la ora, questo lo sapremo nel bilancio dell'anno prossimo, quindi dobbiamo aspettare quando l'azienda finisce, fa i bilanci e vedremo, queste sono le notizie che non si possono sapere, l'azienda cosa è incassata, cosa è incassata. Mi sembra anche una domanda abbastanza un po'. Se ci saranno, nella presentazione del bilancio, ci saranno degli utili, saranno dati dividendi, quindi tutto qui è quello che, diciamo, questa domanda è abbastanza un po' paziosa. Ok, no, no, no. Qua... 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 Allora... Qua... 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 Потому что там же создана компания в Эмиратах. Отдельная компания. Часть денег идет на наших инвестициях, да, скажем, она идет в Минск, в зао «Струнные технологии». А там в Эмиратах платят арабские шейхи деньги, насколько я знаю. E' una grande parte. E' una grande parte. Ok, sì, Max ha detto che il bilancio sarà per l'anno 2018 e se c'erano dei, diciamo, utili dai progetti in Emirati Arabi, lo scriverà in questo bilancio. Esatto. Ci sarà il bilancio depositato dal 2018. Ci sarà il bilancio. E' un bilancio depositato dal 2018. E' un bilancio depositato dal 2018. Perché Maxim dice che ci sono anche le domande nella chat, magari risponderemo anche su queste domande. Va bene, dai, allora vi lascio... per il tuo linguaggio che ci ha aiutato a capire un po' in linguaggio italiano come spiegare le cose. Spero di essere stato utile. E' utilissimo. Va bene, allora saluto Maxim, ci vediamo alla prossima. Ok. Ok. Grazie. 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 Buongiorno. Grazie. 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 se le compagnie in questo modo un po' di risposta un po' di risposta un po' di risposta tra noi come investori ci sono un po' di risposta in un po' di risposta un po' di risposta io sto andoro per gli risposta per gli risposta la domanda se la società havesse delle perdite invece che degli utili da dividere gli investitori parteciperanno alle perdite no Dello è che in un ufficio propisa, che il rispondimento di 20% di divideri, ma è molto difficile представito il caso, per le compagnie alcune obiettie, potere. Adesso, ovviamente, gli accionisti, gli accionisti, gli accionisti, gli accionisti nel corso dei vittori la responsabilità per le compagnie. Ma il proiecto è stato molto massimo e è stato molto utile per tutti i risultati per tutti i paesi mondiali, che è stato molto utile, è stato molto utile, che è molto difficile presentare la situazione, per che ci sono alcune scelte. Allora, nel nostro memorandum c'è scritto che noi partecipiamo ai 20% delle utili dell'azienda, è molto difficile immaginare di avere delle perdite con un progetto di tale grandezza, di solito naturalmente i co-titolari di un'azienda sono responsabili anche delle perdite in propria quota che hanno in questa azienda, ma Maxime dice che è molto difficile da immaginare che Skyway avrà delle perdite. Sì, c'è il vostro questione, da Maxime? Euro Asian 1, 2, 3, o sono stati anche la mia coda che i zin, tra i conti anche la mia coda che i zin, come la mia coda che i zin, o è solo la mia coda che i zin? No, la mia coda che i prima, la mia coda anche la mia coda, ma dopo il processo di mantenere, perché questo non è ancora vero, quindi bisogna riusci a IPO e poi poterlo, perché è difficile nazivare polnozennamente, giuridicamente, polnozennamente, cennatelle immaginazione, in pienso di questo termine, che non vissero a IPO. Adesso c'è un documento, un documento, un documento, un documento di compagno, che può ottenere la biazza, ma in questo caso non possiamo ottenere la biazza, quindi non permesso di avere questo cod eSIN. oggi non è nessuno, sono le strane per le compagnie, non sono capacevano. Quindi, la compagnie realizzata realizzando la realtà, che dicevano. A inizio 15 etapa, io, per esempio, la compagnie del compagnie del compagnie, che vedono copie e registra delle nostre compagnie. Questi tre compagnie. Allora, Maxime dice che il codice ISIN, come abbiamo già spiegato con Domenico, che il codice ISIN è una cosa diversa da quel numero che abbiamo noi, incorporazione. Intanto l'azienda adesso ha capito che è inutile prendere questa incorporazione ISIN per altri holding, sono le spese inutili che non aggiungono nessun valore per l'azienda perché il codice ISIN serve veramente quando noi entriamo in borsa, quando non avremo più quote ma avremo azioni. Per questo ha deciso di non fare quell'incorporazione ISIN. Maxime dice che se volete avere una garanzia in più, come fa anche lui per sé, vi consiglio di, quando saremo alla fine della quindicesima etapa, di richiedere un estratto dall'azienda di Cipro che tiene il registro dell'azienda madre. è quello che è più importante. Sì. 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 ragazzovistio, italianze e russiche. E' molto piacere. Perchè vi auguro di sviluppare, buoni e scelte in nostra vita. Ok, allora vi ringrazio ancora. E' molto piacere di avere la squadra italiana in Skaveno S Group, perché c'è un legame tra popolo russo e popolo italiano. E' un legame speciale e sempre fa piacere di comunicare con gli italiani. Vi auguro ancora successo e tutto il bene del mondo. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti